Una vettura si è incendiata nel pomeriggio di lunedì 12 luglio intorno alle 18.30 sulla 4.60 Feletto e è accaduto un Alfa 159 in transito. Il conducente ha fatto appena in tempo ad accostare e scendere dall'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorolo Canavese, i carabinieri e il sindaco Stefano Filiberto. I vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.